L'incidente nella serata di sabato 18 novembre intorno alle 20 sulla strada provinciale 460 nel comune di Rivarolo tra la rotonda che porta ai Mastri e l'incrocio regentiera Rivarossa. Uno a grande punto, per motivi ancora da chiarire, ha perso il controllo ed uscita di strada finendo nel posto che costeggia la carecciata. Sul posto sono prontamente intervenuti la Croce Rossa di Rivarolo Canavese, il soccorso avanzato di Caluso, i vigili del fuoco di Rivarolo e i carabinieri del nucleo aerodimobile di Veneria Reale. Dopo aver stabilizzato l'uomo, l'ambulanza ha trasportato il malcapitato all'ospedale di Ciriè.